E' lunedì, quindi buon inizio di settimana a tutti, spero che il vostro weekend sia stato piacevole e rilassante. Ieri sera volevo intervenire e salutarvi la domenica sera con il post partita di Spagna-Germania che è stata una delle prime vere partite, secondo me, di questo mondiale, probabilmente dopo Brasile-Serbia. Bene o male deve essere la terza partita che ho visto interamente e poi ho deciso di non parlarne perché c'era poco da dire alla fine, è una partita divertente, tutto sommato divertente ma con poco contenuto. Un paio di riflessioni e considerazioni però le voglio fare adesso. Intanto la Germania si salva, non se ne va a casa subito però adesso deve sperare indeterminati incastri e vediamo se i tedeschi andranno a casa oppure no. Da parte mia l'antipatia verso Francia-Germania è dichiarata, forse anche per quello che è stato il mondiale del 2006 quindi batterle in fila, la vittoria azzurra come vedete alle mie spalle, il colore azzurro, noi non ci siamo e quindi sarebbe interessante pensare ai tedeschi che se la guardano da casa tanto quanto noi dopo un'emiliazione ai gironi, noi gli ultimi due mondiali che abbiamo fatto siamo usciti proprio lì e gli ultimi due che non l'abbiamo fatto perché non ci siamo nemmeno qualificati quindi male, molto male, quindi speriamo che anche gli altri vadano male e più di questo non possiamo fare. Alvaro Morata nelle partite importanti lo zampino ce lo mette sempre, incredibile, incredibile. In queste partite di cartello, di livello, l'abbiamo visto in Champions tante volte con la Juventus, Alvaro Morata è un giocatore che non ha tanti gol anche se comunque con la nazionale ne ha segnati un buonissimo numero per le partite disputate, dovrebbe essere circa sui 30 in poco più di 50 partite, una roba del genere, quindi anche numericamente un buon bottino ma il peso specifico dei gol di Morata è sempre alto se non altissimo nella Spagna fa il centro avanti anche se non titolare e infatti questa è la considerazione successiva e cioè sia Spagna che Germania si sono presentate dal primo minuto senza una vera e propria punta quindi un calcio moderno, tra virgolette, anche se in realtà ad oggi di squadre big in Europa senza centro avanti me ne ricordo poche, poche, forse proprio il Bayern Monaco adesso con la Dio di Lewandowski perché lo stesso Manchester City ha acquistato Holland quindi è passato da giocare con lo spazio come centro avanti a un centro avanti come centro avanti infatti sono entrati due attaccanti, Morata per la Spagna è il giocatore tedesco che non conoscevo che comunque ha fatto due gol in tre partite quindi un impatto con la nazionale davvero devastante e hanno fatto gol tutti e due quindi cosa sarebbe stata Spagna-Germania con due attaccanti fin dall'inizio? questa concessione di giocatori che si muovono senza palla negli spazi io me la ricordo nel 2010 quando appunto la Spagna e il Barcellone iniziavano ad entrare in quel limbo di tiki-taka ma c'erano anche giocatori differenti non lo so se possano permetterselo anche adesso però è stata comunque una partita tutto sommato molto divertente oggi vorrei parlarvi delle parole di Andrea Agnelli perché ieri c'è stata una partita disputata all'Alliance Stadium ne avevamo sparlicchiato nel finale del video di ieri ma prima di tutto voglio rimostrarvi queste cuffiette con scritto Juventus quindi sono delle cuffie bluetooth da utilizzare per tutti i vostri dispositivi potete aprirvele, ricaricarvele, portarvele con voi che ne so, siete in treno perché state andando a lezione siete in giro perché volete fare una passeggiata con questo bel tempo chi non va a fare una passeggiata o comunque siete in palestra e volete ascoltarvi la musica potete farlo con le cuffiette Juventus vi lascio il link Amazon per l'acquisto qui sotto in descrizione e c'è anche un codice sconto quindi andatevi a vedere quando fate l'acquisto poi avete il mio codice sconto con cui risparmiare anche qualche soldino andatevelo a vedere allora dicevo parole di Andrea Agnelli perché quando parla Agnelli bisogna sempre ascoltarle cercare di valutare quindi ho preparato una grafica cerchiamo di andarcela a vedere intervenuto sul tema delle seconde squadre nella partita organizzata all'Allianz Stadium tra Juventus Next Gen quindi l'Under 23, l'ex Under 23 quella di Serie C e il Mantua tra l'altro molto bello molto bello il fatto che si sia disputata una partita di Serie C all'Allianz Stadium secondo me è una gran bella idea quindi complimenti alla Juventus se fosse stato perdonatemi di Torino dalle parti di Torino sarei sicuramente andato a vederla non è stato così però bella cosa tra l'altro 2-2 è finita con un autogol di Matteo Gerbaudo vecchio cuore bianconero che ha fatto pareggiare la Juventus 2-2 tra l'altro Juventus a Andrea 23 che è un ottimo filone di vittoria barra pareggi quindi non perde da un po' è tipo a 7-8 punti 7 punti mi pare dal primo posto in Serie C ma è anche vero che ha tipo 3-4 dalla vetta ottavo posto una classifica molto corta con squadre tutte lì quindi la Next Gen comunque sta andando abbastanza bene e quindi hanno iniziato a tirare un po' di conti a ragionare un attimino se le cose stavano funzionando oppure no e infatti dice Agnelli il progetto seconda squadra aiuta anche un club nella sostenibilità si parla sempre di fagioli e miretti di cui sono orgoglioso che hanno esordito una strana maggiore ma bisogna soffermarsi anche sui ragazzi della Juventus in pianta stabile in under 20 perché da lì c'è la base è vero perché è ovvio che i fagioli e i miretti diventano fagioli e i miretti in che modo? giocando nella Juventus prima squadra diventando anche se vogliamo giocatori chiacchierati giocatori sulla bocca di tutti proprio perché sono arrivati alla Juventus prima squadra ma per arrivare lì c'è un lavoro dietro incredibile che parte da lontano e infatti ricorderete quando avevamo fatto la chiacchierata dell'intervista proprio di Miretti che diceva io ho scelto la Juve anche perché oltre a esserne tifoso era la squadra che offriva il servizio del pulmino per portarmi ad allenarmi e i miei genitori lavorando facevano fatiche e quindi la Juventus metteva a disposizione qualcosa di importante cioè capite quanto si parte quanto si va indietro questa cosa è bellissima cioè è veramente bellissima mettete che un giorno Miretti diventerà davvero centrocampista importante per la Juve e entrerà nella storia della Juve non lo so me lo auguro spero incrocio le dita per lui e raccontare guardate io sono arrivato a Juve perché il pulmino aiutava a venire ad allenarmi sono aneddoti incredibili però è vero bisogna partire da indietro perché è da lì che si formano comunque si plasmano questi giocatori poi dice gran merito del progetto va a Billy Costa Curta perché ha spinto molto per realizzarlo il primo anno era stranissimo perché i giovani non capivano dove fossero ma dopo 4-5 sconfitte sono andato al campo per parlargli e ricordarli che sono la Juventus infatti io ricordo non ricordo Agnelli che mi parla perché io non giocavo nel under 23 però ricordo che i primi anni se non il primissimo anno guardavo un po' incuriosito la classifica della Lega Pro e dicevo però la Juventus non sta andando benissimo infatti adesso è anche un motivo d'orgoglio pensare che comunque abbiano giocato all'Allianz Stadium e comunque si stia andando abbastanza bene cioè sono cose belle secondo me sono cose che devono rendere orgogliosi tutti quelli che hanno creato o creduto nel progetto voglio mettere in prima fila Cherubini dato che è stato uno degli ideatori in assoluto di questo progetto e quindi speriamo che poi possa portare a sempre più giocatori in prima squadra questo dell'under 23 lo dico tranquillamente è l'idea o comunque una delle cose che mi rende più orgoglioso della Juventus in questo momento e c'era fare veramente i complimenti a quando sono partiti oggi mi fa anche un po' strano perché col senno di poi vorrei dirvi cosa sarebbe stato Pirlo non sulla panchina prima squadra ma sull'under 23 cioè saremmo poi arrivati a cioè è una sliding door importante quella lì mettete il caso confermato Sarri un secondo anno Pirlo va effettivamente ad allenare in serie C e poi magari al termine della stagione non si conferma Sarri per x motivi viene esonerato Sarri ci va Pirlo dopo un anno in panchina o dopo due anni in panchina che ne so finito il ciclo Sarri sarebbe stato interessante voglio sapere anche un po' la vostra qui sotto nei commenti secondo voi come sarebbe andata poi dice Agnelli non conta la categoria tutti sono la Juve sapevamo che ci sarebbero voluti anni per vedere i frutti mi retti l'anno scorso giocavi in primavera in under 23 prima squadra ma lui non interessava dove giocasse perché è da noi da tempo il problema è quando si perde un giocatore da fuori quando si prende un giocatore da fuori in under 17 lui va accompagnato per fargli capire di che cosa fa parte perché è sempre quello che si è sempre detto è sempre quello che hanno sempre detto gli altri arrivando da fuori la Juventus sì da fuori ha un alone mistico ma poi dentro capisci che è una roba differente è una roba diversa proprio uno spirito io non voglio parlare di DNA perché la parola DNA secondo me vuol dire tutto e niente però lo spirito Juve sì spirito Juve e respirare la Juve vivere la Juve poi lo dice uno che da dentro non c'è nemmeno mai stato ma l'avverte questa cosa diversa poi magari il cuore che parla e magari anche per Agnelli il cuore che parla però sentire tanti professionisti che negli anni magari hanno anche sempre screditato la Juve poi arrivati alla Juve iniziano a parlare in modo diverso ti fa capire che c'è qualcosa dentro alla Juve che certi tasti te li va a toccare può rimanere la mia opinione e poi Agnelli dice con le seconde squadre si tengono i migliori giocatori e si coltivano se la nostra squadra però dovesse retrocedere sciogliamo l'accio del progetto perché i costi non sono paragonabili a quando hai 50 prestiti questa non l'ho capita sinceramente bisognerebbe ascoltarlo capire il contesto però dice il tema non è quello ma il fatto che il costo della prima squadra si è abbassata fagioli e miretti sono risparmi ora qualcuno potrebbe non prenderla benissimo la parola risparmi ma secondo me non è la parola risparmi detta in malo modo per sminuire i giocatori anzi cioè sono effettivamente risparmi e io mi auguro che questa possa essere la linea intrapresa da Juventus nei prossimi anni banalmente adesso c'è il mercato invernale post mondiale ci sarà il mercato invernale e siccome la Juve dato che siamo andati a giocare 3-5-2 siamo passati a questo sistema di gioco qualcosina dovrà modificare soprattutto sugli esterni però io a sinistra in questo momento sono qua che dico non andrei a intervenire sul mercato perché? perché delle due ci metto healing se mi serve un backup di Kostic ci metto healing che si è dimostrato un ottimo giocatore in quella posizione e quindi mi concentro più sulla destra dove potrebbe esserci Barbieri ma dove probabilmente se Barbieri non è stato convocato tante volte come quegli altri viene ritenuto al momento un passettino indietro ma il bello di questi giocatori di questi ragazzi è che nel giro di un mese due mesi immaginandosi magari dover giocarne la Juventus questi possono avere una crescita esponenziale possono veramente passare da qui da qui a qui in pochi allenamenti con la prima squadra perché già allenarsi con la prima squadra è qualcosa di diverso e quindi iniziare a prendere un po' di confidenza poi il campo è una cosa differente e lì va data la possibilità di questi ragazzi di giocare se ce n'è la necessità però oggi io il mercato invernale lo guardo non come l'anno scorso dove mi serviva l'attaccante perché come dicevamo prima Morata peso specifico dei gol altissimo ma se deve farmi un campionato il campionato si è sempre fermato intorno ai 10 Alvaro Morata se non 15 un anno con Real ma siamo sui 10 in solo campionato quindi serviva un bomber se andate a prendere Blaovic ora secondo me la Juve a livello di Rosa a livello specifico di Rosa c'è manca qualche accorgimento perché si è cambiato modulo e va tagliati secondo me alcuni rami secchi in alcuni ruoli dove c'è abbondanza ma questo è un discorso che faremo in un prossimo video e quindi niente ragazzi io volevo semplicemente riportarvi queste parole di Andrea Agnelli perché secondo me sono state abbastanza interessanti e ribadisco quando parla Agnelli perché Agnelli parla sempre poche volte e quando parla secondo me è giusto ascoltare e commentare quello che si è detto e secondo me sul discorso next gen ex under 23 anche loro sono veramente lo sentono un po' come un loro piccolo gioiello poi aveva fatto anche se ho ben capito un elenco di giocatori che sono passati dalle giovanili della Juve alla prima squadra e anche questo sarà un discorso interessante da tirare fuori prossimamente un abbraccio ragazzi buon lunedì